Senta Presidente, c'è un certo affollamento di provvedimenti che riguardano la giustizia in Parlamento. È corretto sostenere che adesso la corsia preferenziale è a legittimo impedimento e che se tutto va bene sul legittimo impedimento il processo breve va su un binario morto, in attesa poi che ci sia il lodo alfano con dignità costituzionale? Grazie, ma guardi la cosa che mi dà più fastidio è quando io leggo che il Parlamento è impegnato sui problemi giudiziari di Berlusconi, Berlusconi non ha problemi giudiziari, ha avuto delle aggressioni giudiziarie che è molto diverso, io posso giurare su tutto ciò che voglio che nessuno dei fatti su cui si sono costruiti dei processi corrisponde al vero e questo è un grave problema. Rispondere ad un utilizzo politico della giustizia con un utilizzo legittimo e democratico del voto parlamentare, che è l'unica cosa che abbiamo per contrastare chi usa la giustizia a fini di lotta politica, mi sembra una cosa assolutamente doverosa. In Parlamento c'è il legittimo impedimento che porta per 18 mesi alla possibilità di chi governa di non dover andare in due mesi a presenziare 26 udienze in due mesi, pensate anche ai tempi di preparazione per queste udienze. Uno non può governare e deve essere attaccato da giudici che tra l'altro sono anche dei pubblici dipendenti pagati con i soldi dei contribuenti, quei contribuenti a cui chi governa deve prestare la massima attenzione. Il fatto invece che il processo breve sia stato votato in Senato e che ancora non sia stato messo l'ordine del giorno in Parlamento è qualcosa che credo cambierà, perché intanto non si deve parlare di processo breve. È una mezzogna parlare di processo breve, è una sigla, una denominazione che è stata inventata dall'opposizione e che non corrisponde al fatto vero, perché quello che si è approvato in Senato è un processo non lungo, ma lunghissimo. Soltanto chi è capitato dentro il girone infernale dei processi sa come viene rovinata la vita di una persona che è sottoposta a un teorema, a un accusatorio. Vi ricordo che avevamo approvato una legge nella passata legislatura che portava il nostro Paese nella condizione civile di civiltà delle altre democrazie, per esempio degli Stati Uniti d'America. Quando un cittadino sottoposto ad accusa viene assolto da un tribunale della Repubblica non ci deve poter essere la possibilità per un pubblico ministero di riportarlo in giudizio rimettendolo nel girone infernale dei processi una volta con l'appello o addirittura una seconda volta con il ricorso in Cassazione. I PM fanno questo di mestiere, guadagnano soldi per farlo, sono portati a ricorrere sempre contro le sentenze che hanno negato i loro teoremi accusatori per pregiudizio e antipatia personale, oppure per antipatia politica, oppure anche soltanto per dimostrare di aver avuto ragione. E i cittadini sono sottoposti a un disdoro che non ha possibilità di rimedio, sono sottoposti a spese che molto spesso rovinano la vita loro e dei loro cari. Quindi credo che questo della giustizia sia un capitolo su cui noi dobbiamo assolutamente impegnarci per una vera profonda abimis dal profondo del sistema giudiziario italiano. Ecco, ma allora perché Presidente? Come ha riconosciuto lei anche con un leader straniero, dice sono così esperto in riforma della giustizia che ancora non riesco a farne una. Riuscirà in questa legislatura a fare riforma della giustizia oppure no? È nostra ferma intenzione di farlo.